ciao amici sono lox bentornati sui fatti di opinioni di lox il canale per i veri marati di sport tour de france tappa 9 tanti temi anche oggi ma una sola certezza l'uragano pogacar è troppo più forte di qualsiasi altra cosa che è sulla strada di questo tour de france oggi secondo appuntamento purtroppo già l'ultimo con le alpi troppo poco le alpi di questa edizione del tour de france una tappa da clues a tignis molto bella molto interessante tutta sotto l'acqua in condizioni anche abbastanza difficili perché la pioggia era molto forte abbattuto per tutto il tempo la temperatura è scesa anche in alcuni tratti non faceva ovviamente freddissimo ma è stata molto 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 difficile per i corridori affrontare questa tappa oggi una gara diverso dagli altri giorni perché non si è corso da subito c'è stata una partenza un po più classica c'è stata un pochino meno quella foga quell'agonismo quel corridore di classifica buttati dentro fin dall'inizio è partita una bella fuga nella fuga avevamo un corridore che è andato a un passo da prendere anche la maglia gialla ben o'connor corridore australiano che avevamo indicato tra l'altro al nostro video di presentazione del tour de france con una delle possibili sorprese perché aveva corso molto bene sia a romandia sia al delfinato era nella fuga era insieme ai due colombiani quintana e di ghita è stato bravissimo ha controllato è stato molto bravo soprattutto nella discesa prima dell'ultima salita teams dove non ha rischiato come invece hanno fatto i due colombiani si è alimentato si è preparato per bene è andato all'attacco nell'ultima salita ha staccato i due colombiani che sono andati invece in una crisi incredibile pur avendo corso molto in accordo tra di loro e come dicevamo è andato vicino anche a prendersi la maglia gialla perché a un certo momento il suo vantaggio in classifica generale era anche superiore ai 9 ai 9 minuti però c'è stato invece la rimonta finale da parte del gruppo maglia gialla in questo caso pogaccia ha controllato la corsa con i suoi compagni lui ha fatto un buon lavoro ha alternato i suoi corridori al controllo della gara si è rivisto rafa maica che ieri non era stato presente nel gruppo di testa a causa di una caduta che l'aveva eliminato dalla lotta subito all'inizio stavolta ha lavorato anche lui ha lavorato come sempre molto bene davide formula lavoratore costa mcnalti insomma la uae ha fatto un buonissimo lavoro poi sull'ultima salita a un certo momento si è messa a tirare l'inneos questo perché o connor stava guadagnando non solo la possibilità di andare a prendersi la maglia gialla ma soprattutto stava mettendo un grandissimo margine tra sé e gli altri rivali nella lotta per il podio che probabilmente l'unica lotta che rimarrà in questo tour de france quindi pogaccia ha avuto anche la collaborazione degli uomini di lineos nel quale si è rivisto soprattutto un ottimo garen thomas garen thomas che merita veramente tantissimo in questo tour de france caduto anche lui nella terza tappa eliminato quindi da subito dei giochi della classifica però sta combattendo è lì presente e nell'ultima salita si è reso protagonista anche di un ottimo lavoro che ha portato poi a un attacco di carapaz però l'attacco di carapaz ha risposto subito con facilità pogaccia che non solo ha risposto a carapaz ma quando ha capito che la situazione era di una totale assenza da parte di tutti gli altri rivali ha allungato allungato è andato come ieri ha tranquillamente carapaz non è riuscito in nessuna maniera a rispondere a questo attacco è andato a riprendere un pochino dei corridori che c'erano avanti rispetto a lui e ha concluso alla fine al sesto posto ha perso solo sei minuti da o'connor quindi guadagnandone almeno tre quasi quasi completamente da solo nel finale di tappa ha salvato la maglia o'connor ha vinto alla grande la tappa ma è solo secondo in classifica generale con due minuti di ritardo oggi una grande gara dei corridori italiani è stato molto bravo cattaneo che è rimasto nel gruppo degli inseguitori è scattato nel finale e ha portato a casa un gran secondo posto a cinque minuti dal vincitore o'connor ma soprattutto la grande sorpresa per quanto ha corso bene per quanto è stato presente tutto il tempo della gara è stato con sonny colbrelli che ha chiuso al terzo posto a cinque minuti e 34 secondi quello che era un velocista che tra l'altro aveva il problema anche tante volte di essere competitivo ma non riuscire a vincere quest'anno sta vivendo sicuramente la stagione migliore della sua carriera peraltro con la maglia di campione italiano sulle spalle che rende tutto ancora più epico e più bello e sta lottando per guadagnare la maglia verde perché sempre nelle prime posizioni nello sprint intermedio e quindi sta guadagnando tanti punti anche da quel punto di vista e poi oggi addirittura in una tappa di montagna ha fatto una gara clamorosa arrivando sul podio abbiamo avuto quindi due italiani sul podio quarto posto per gulian martin che per lungo tempo è stato un altro dei vincitori di giornata il corredore della cofidis perché stava guadagnando parecchie posizioni anche in classifica portandosi a un terzo posto che poteva sembrare molto interessante anche per lui poi però nel finale è un po corollato guadagnato piuttosto poco e ora si trova soltanto al nono posto della classifica generale cattaneo peraltro con questa ottima prestazione si è portato dodicesimo a 11 minuti di ritardo ma un dodicesimo a posto complessivo che fa anche ben sperare perché questo tour di quest'anno che non ha nessuna regola nella quale ogni tappa può portare a continui stravolgimenti perché no anche essere lì a 11 minuti sicuramente almeno un posto nella top 10 per cattaneo potrebbe arrivare così come col brelli visti anche i tanti ritiri di oggi la lotta per la maglia verde può diventare sempre molto molto interessante oggi ci sono stati ben 12 ritiri e questo è un altro dei temi di giornata principalmente perché non sono neanche partiti due dei grandi protagonisti di questo tour de france ovvero matthieu van der poel che ha chiuso il suo lavoro ha deciso di fermarsi dopo la tappa di ieri nella quale ha perso la maglia gialla dopo averla difesa con grande onore sia nella tappa cronometro sia nella splendida tappa di venerdì e averla conquistato a domenica nella seconda tappa dedicandola al nonno e portando quindi una settimana veramente interessante veramente importante per lui però l'obiettivo di tokyo dei giochi olimpici della vittoria dell'oro nel mountain bike è più importante e quindi ha deciso di lasciare il tour de france ritiro anche purtroppo per primo aceroglici il campione sloveno ha deciso di fermarsi dopo le conseguenze della tremenda caduta avuta nella terza tappa perdiamo un grande protagonista che ormai era uscito completamente di classifica però oggi ha deciso di fermarsi altri ritiri si è fermato team merlier velocista si è fermato de mer velocista si è fermato cocard si sono fermati i sudafricani de baud la mini si è fermato il nan peters il francese che purtroppo quest'anno non sarà protagonista insomma tanti ritiri e quindi per colbrelli anche la possibilità di poter lottare ancora di più per questa maglia verde quindi i corridori italiani veramente sugli scudi rapidamente la classifica pogaccia dal primo posto oconner a 2 0 1 rigoberto uran sul podio in questo momento a 5 18 vingegaard è rimasto il corridore di punta della jumbo visna 5 32 carapazza è solo quinto con 5 33 però vedete che la lotta è lì e a 15 secondi da uran nella lotta per cercare di andare sul podio massa 5 47 kelderman 5 57 luzenko che oggi è andato male ha perso un po troppo il corridore della stana a 6 e 02 poi abbiamo guillian martin come detto che poteva essere un gran vincitore del giorno invece alla fine si è fatto rimontare troppo e gadu godu che invece è stato un perdente del giorno perché ha perso parecchio ed è rimasto a 7 22 di ritardo quindi una classifica molto corta perché tra il secondo e l'ottavo ci sono soltanto tra secondo il decimo ci sono solo due minuti quindi ci sarà grande lotta per il podio domani avremo il giorno di riposo si riposa a tiglie il tour quindi si ferma dopo la prima settimana eccezionale la quale abbiamo visto di tutto un tour diverso dei tour precedenti ricordo e ricordo ancora i tour degli anni 9 fini anni 90 soprattutto nei quali le prime settimane erano dedicate soprattutto i velocisti e succedeva veramente poco nella classifica generale invece questa settimana questo tour è stato incredibile è già un romanzo ogni tappa ci ha regalato emozioni ogni tappa ci ha regalato protagonista abbiamo già una classifica assolutamente piena di colpi di scena però abbiamo anche probabilmente il vincitore perché pogacar è troppo in forma rispetto agli altri però anche la tappa di oggi anche quello che è successo a quintana ea i ghita che hanno avuto delle crisi di fame tremende nella salita ci insegnano che tutto è possibile il ciclismo ha proprio in questo anche uno dei suoi aspetti più belli grazie ragazzi ci vedremo con il tour martedì una tappa per i velocisti superstiti oppure per la fuga di giornata vedremo quando torneremo verso valenza e scenderemo verso sud della francia la settimana è un po più tranquilla abbiamo però mercoledì la doppia scalata del montventù e poi nel weekend affronteremo i pirenei quest'anno i pirenei come abbiamo detto nella video di presentazione saranno le montagne decisive per la segnazione del tour de france anche se come dicevamo poi il percorso in realtà sembrerebbe aver già dato i suoi verdetti grazie ragazzi iscrivetevi al canale like per se vi piace il video campanella per essere avvisati per i prossimi contenuti un bacione ciao a tutti da LOX